Dovresti stare molto attenta a quello che desideri, potresti non ottenerlo. The Conselor, il procuratore di Ridley Scott, tiene la vita del box office in quattro giorni di programmazione. 1.704.000 euro incassati, la più alta media copia del weekend. Conferma il secondo posto, il capitale umano di Paolo Virzi. Anche la maialina Peppa Pig mantiene il piazzamento della scorsa settimana, rimanendo in terza posizione. Scende di tre gradini un boss in salotto di Luca Miniero, ora quarto. Si piazza in quinta posizione la new entry Angry Games, la ragazza con l'uccello di fuoco. Un maggiordoma, la casa bianca è sesto, altra new entry in settima posizione, lo sguardo di Satana, Carrie, mentre mantiene l'ottavo posto American Astle. Frozen, il regno di ghiaccio, scende dalla sesta alla nona posizione. Chiude la tappa a terra, sapore di te, di Vanzina.